Il progetto l'abbiamo intitolato Traduttori per la pace, perché quello che noi volevamo mettere in evidenza era la importanza della lingua comune che supera tutte le barriere. Inizia l'accoglienza degli studenti ucraini in provincia di Arezzo. Noi in questo momento ci troviamo al liceo linguistico Giovanni da San Giovanni, dove è stata già accolta una studentessa e dove c'è in preparazione un bellissimo progetto in collaborazione con Oxfam. Il progetto prevede il coinvolgimento del Dipartimento di Italiano e di Russo del liceo linguistico Valdarnese. L'intento principale è quello di sostenere gli studenti che arriveranno in un momento particolarmente difficile per loro. La lingua russa è una lingua che in Ucraina è molto vicina dal punto di vista proprio linguistico all'ucraino, perché fanno parte dello stesso sottogruppo slavo. Il progetto prevede la formazione degli insegnanti di lettere e degli studenti aderenti al progetto. In questo liceo ce ne sono addirittura 80 che daranno una mano anche nelle scuole primarie. Intanto qui a San Giovanni Valdarno è stata accolta una giovane studentessa che arrivava dall'Ucraina. A breve ne arriveranno altri tre. Devo dire che la ragazza si è già inserita, già due giorni dopo che è arrivata, perché grazie al progetto Traduttori per la Pace, una lingua come Ponte, ho potuto inserire la ragazza in una classe quarta del liceo linguistico e l'ho inserita in una classe dove gli studenti studiano la lingua russa. Quindi come prima lingua fanno l'inglese, il russo e la ragazza parla il russo e come terza lingua la ragazza in Ucraina studiava anche il tedesco. Per cui abbiamo ricostruito il suo percorso curricolare in Ucraina e quindi lei si è trovata non spaesata perché accolta da compagni che con lei hanno parlato subito il russo e con compagni che come lei studiano sia l'inglese che il tedesco.